si stocca buona manco se ci aveva i bloccaggi davanti a terriera comunque se c'è la possibilità di biscottini di noi ci avanti no bravissimo vendeche zbare con la teola vai fratello va bucchi agregat vai raffaesci uiti ma dariera ne ducau ma mita ne ducau ma mita vai 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 vai